Ciao a tutti ragazzi e bentornati e sì questo è uno di quei video che ogni tanto vi propongo quando ho tre top di gamma in super anteprima in questo caso ragazzi al centro di questa registrazione abbiamo il nuovo Xiaomi 12S Ultra uno smartphone super chiacchierato per le sue capacità fotografiche, per le sue capacità video, per l'hardware che troviamo a bordo e soprattutto per un sensore da un pollice quindi un reparto video e foto sicuramente molto molto interessante direi di cominciare però questo video partendo da ciò che non mi piace di questo Xiaomi ovvero la fotocamera frontale di buona qualità per le foto ma che risulta essere secondo me media per un top di gamma in quanto registra al massimo fino a 1080p a 30 frame addirittura per secondo se non vado errato mentre Samsung S22 Ultra e anche ovviamente iPhone 13 Pro Max con la fotocamera frontale registrano in 4K a 60 frame prendo il cavallettino mi avvicino un po' con il mio brutto faccione scusate se mi muovo in modo un po' eccessivo e vi faccio vedere come si comporta anche con la stabilizzazione poi valutiamo tutto a computer ma questi sono i risultati poi ragazzi ovviamente la risoluzione non è tutto lo sappiamo bene ma è anche vero che voglio dire ormai ci si aspetta sempre il 4K anche dalla frontale a 60 frame chi fa video, chi fa vlog, chi utilizza lo smartphone in un certo modo apprezza molto questa cosa e su uno smartphone che costa quasi 1.400 euro secondo me non va bene, non va bene Xiaomi, non va bene ma passiamo ai sensori posteriori ok questa invece è una registrazione video in 4K a 60 frame per secondo tutti e tre sembrano davvero molto stabilizzati ma in questo caso mi sembra un passo avanti Xiaomi almeno così a display ragazzi mi sembra davvero quello più stabile e quello anche con il display più luminoso in questo momento sotto la luce diretta del sole è quello che spara un po' di più colori così a prima vista sembrano ottimi su Samsung sembrano veritieri su Xiaomi e sembrano un po' giallognoli invece su iPhone ma siccome le mie parole valgano zero adesso vi faccio vedere una bella cosa ovvero i miei soliti 50 euro così avete la possibilità di capire quale tra questi si comporta meglio proprio nella riproduzione di colori di questa banconota cerco di fare in modo di passare davanti a tutte e tre allo stesso modo sotto la stessa luce di sole così insomma avete la possibilità di vedere effettivamente quale mette a fuoco meglio e quale si comporta meglio e nel frattempo iPhone ha abbassato la luminosità per l'alta temperatura e quindi ecco questa comunque è la registrazione in 4k a 60 frame per secondo e già che ci sono proviamo a correre e anche in questo caso si vede quanto Xiaomi sia stabile almeno a display ragazzi sembra veramente super super stabilizzato passiamo agli alti sensori passiamo ai sensori grandangolari come sempre al centro abbiamo Xiaomi davvero super grandangolare a destra abbiamo iPhone a sinistra S22 Ultra e ragazzi per farmi sapere come vi sembra anche l'audio raccolto da questi dispositivi perché ovviamente anche quello è molto importante in determinate occasioni anche il più importante della qualità video e rimango comunque sempre allucinato da quella che è la stabilizzazione di Xiaomi ragazzi a display sembra davvero quello più stabile e non pensiate che questo cambi se io vado a spostarlo a sinistra o a destra o al centro perché resta davvero identico ripeto questo è quello che vedo io a monitor però al computer ancora non li ho visti questi video poi eventualmente mi fate sapere sotto anche voi cosa ne pensate ma questa grandangolare mi sembra davvero un ottimo grandangolare soprattutto sembra molto stabilizzata sicuramente molto più stabilizzata di iPhone a monitor ripeto a monitor e ripeto anche ancora che a monitor quello che si vede meglio è proprio Xiaomi quindi ottimo pannello questa è la registrazione invece effettuata dai tre sensori sempre in 4K a 60 frame con il 10x di Samsung a sinistra il 5x di Xiaomi e il 3x di iPhone adesso vado a fare un crop con iPhone e non credo che la qualità diventi ottima è un 9x penso passi tutto in digitale a questo punto vi porto anche allora già che ci siamo al 10x con ovviamente Xiaomi e il 10x di Samsung quindi questa è un po' la registrazione dei tre sensori sicuramente adesso ci sarà un po' di sbalzamento di sobalzo perché sto alzando i dispositivi ma lo è già di tanto per capire come si comportano questi dispositivi più o meno tutti alla stessa immagine ringrandita quindi 10x, 10x e 10x e questi sono i risultati anzi iPhone è a 9x non arriva nemmeno a 10x davvero stabile ancora in questo caso Xiaomi, vero o no? almeno così mi sembra davvero molto stabile torno all'1x con le fotocamere principali di tutti e tre i dispositivi in questo momento sono attaccati al cavalletto e mentre torno verso la mia abitazione per andare negli scantinati capire come si comporta ovviamente anche con poca luce queste registra... vabbè ho sbagliato come si comportano con poca luce negli scantinati intanto vi beccate anche il mio faccione esposto direttamente al sole per capire quello che mi rende più abbronzato in stile iPhone, quello che mi rende troppo bianco in stile non lo so e come si comporta soprattutto questo Xiaomi spero di avere gli occhiali puliti e se così non fosse ragazzi vabbè fatevelo andare bene lo stesso andiamo negli scantinati e vediamo come si comportano registrazione video sempre in 4k a 60fps da tutti e tre i dispositivi in ambienti bui come vedete qui è completamente buio vedo un Samsung che riesce a farmi vedere la bicicletta in fondo e anche l'albero di Natale già bello montato che però come vedete ha poca qualità su Xiaomi non vedo nulla mentre su iPhone riesco a intravedere qualcosa comunque in questo caso Samsung sembra quello che riesce a fare meglio sto basso qui con i telefoni per andare nel cambio luce immediato lì in fondo vediamo quale tra questi porta prima ad una visualizzazione corretta dell'immagine e come vedete anche in questo caso ho fatto il mio cane che continua ad abbaiare mi sembra di vedere un Samsung e uno Xiaomi con la stessa identica qualità di immagine a display mentre un iPhone un po' troppo giallino come al solito questa è un po' la sua tendenza mentre poi per quanto riguarda la stabilizzazione adesso lo vedremo insieme insomma poi mi farete sapere tutto qui sotto nel box qui intanto arriva l'ana che mi ha visto ed è per questo che abbagliava e niente ragazzi insomma questo è un po' un po' quello che si porta a casa con questi dispositivi che dire per oggi è proprio tutto da questi tre bestioni super costosi fatemi sapere cosa come vi sembrano questi video quale secondo voi è il migliore quale ne vale la pena quale no soprattutto anche per quanto riguarda l'audio e noi ci vediamo presto per un altro video e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi se non avete messo un like mettete un like e commentate con un hashtag viva il video confronto così almeno so chi di voi ha guardato il video fino alla fine ciao ragazzi e a presto grazie a tutti